Più a sud, più in là del suo sud, un sud non trovi più sud del sud, non è un gioco di parole. Il sud è un paese bello assai, il sole è caldo e non si fredda mai, il mare azzurro verde è sperlucente, qui non si vide mai roba inquinante, siamo genti felici e stracontente, non abbiamo bisogno ma di niente, quasi campa d'aria, quasi campa d'aria. Il sud è proprio vero, paradiso, se vuoi morire devi morire ucciso, Signori, ve lo dico in fede mia, qui non si sa cos'è la malattia, e non capisco con quale causale, ogni città ci fanno un ospedale. Tutta roba inutile, tutta roba inutile, qua non muore mai nessuno, neanche i camposanti ci sono. Il sud ha un clima che è strabiliante, bisogni fisiologici per niente, e al nord che si beve e che si mangia, e c'è bisogno di evacuare la pancia, qui invece, me lo ho detto in confidenza, non la sentiamo no, che se ci geni, quasi campa d'aria, che si son messi in testa i governanti, dentro sfranzaliarci a tutti quanti, fatevi i fatti vostri che non urgi, avere al sud i centri i siderurgi, ma che bisogno c'è di lavorare con sto cieno, con sto luna e con sto mare, quasi campa d'aria, quasi campa d'aria, quasi campa d'aria, no? E che si sono messi in testa questi qua ora, pure le scuole ci vogliono frappegare, ma che non lo sapete che qui nel sud lasciamo tutti i scienziati alletterati, le scuole sembrano un pregno ignorante, non però che siamo tra le gente, ma si campa d'aria, si campa d'aria, no? Ma dice se si campa d'aria, allora tutta questa migrazione come si spiega, si spiega, si spiega, perché a noi nel sud di vero ci piace viaggiare, conoscere altri paesi, altra gente, l'America, l'Australia, la Svizzera, la Germania, la Francia, il Belgio, anche l'Italia, perché è brutta ma l'aria, è bellissima, e Torino che c'è parte? Torino ha fatto una cosa che abbiamo avuto soprattutto con la gente, la migrazione, si spiega, si spiega altro che. Mi dicono che al nord è la notte scura, piena di nebbia e piena di paura, qui invece è giorno chiaro, permanente, ma che ci serve a noi questa corrente? che avete messo a fare ste lampioni, se c'è la luna per l'illuminazione, tutta roba inutile, tutta roba inutile. Qua ci vediamo benissimo, anche di notte, c'è una luna, a prima mattina, spunta l'oraca, e ci hanno fatto super autostradi, lunghi e larghi, 40.000 metri, ma perché mai ce l'hanno, può asfaltare, per non poter piantare, le patate, ma non per noi, perché noi non abbiamo bisogno di mangiare, per quanto no no, perché noi non abbiamo bisogno di niente, lasciate stare, non vi preoccupate, non si fa niente, qua si campa d'aria, si campa d'aria no, ma insomma come lo devo dire, bastonate che qua si campa d'aria, lasciateci stare, non si importa, non vi applicate, qua si campa d'aria, si campa d'aria no, non lo sapevate? Grazie.